Da soli non si arriva da nessuna parte. La chiave fondamentale del successo è la creazione di una squadra. Per questo dedico gran parte del mio tempo alla formazione nelle aziende del circuito di Cashback World e dei miei collaboratori. Sento spesso dire che bisogna tenere separata la sfera personale da quella lavorativa. In realtà credo molto nella fiducia nei rapporti e credo che sia fondamentale costruire delle relazioni con le persone con le quali collaboriamo. I numeri sono solo una conseguenza. Propongo da sei anni Cashback World, ho coinvolto migliaia di aziende e il mio team comprende oggi più di 20.000 persone.